Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' di attenzione perché chiediamo a Maria di guardare verso di noi e siccome abbiamo bisogno di lei, noi la faremo adesso, la incenseremo quattro volte, la faremo girare sui quattro punti in modo che nessuno di noi resti escluso dal suo punto.